Se è vero che sulle nostre spiagge nel weekend di Ferragosto si prevede il tutto esaurito, è anche vero che molti non rinunceranno alla tradizionale gita fuori porta, sobbarcandosi più o meno coscientemente, traffico, file, spazi picnic stracolmi, cocomero caldo, fornacella che traballa e altri tipici disagi abruzzesi. Sia come sia, il conto alla rovescia per le ferie di Augusto è già partito, ma i benefici imperiali potrebbero non arrivare se non terremo a mente che la festa va vissuta con prudenza e consapevolezza. Al mare, per esempio, il Sib, la Società Cooperativa Balnearia Servizi e la Life Pescara fanno sapere di avere predisposto per le giornate di sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 la seconda ambulanza del mare sul litorale di Pescara Sud, che si andrà ad aggiungere a quella già operativa nei fine settimana al Lido del Carabiniere sulla Riviera Nord. Questi equipaggi, per l'occasione in servizio fino alle ore 20, saranno attivabili in caso di necessità dal 118 e integreranno la rete provinciale dell'emergenza urgenza extraospedaliera. Per le gite sui monti e nei boschi e per scongiurare gli incendi arrivano ai consigli del WWF. Gli ambientalisti, nella sottolineare che oltre il 97% degli incendi in Europa è riconducibile all'attività umana, fanno appello al senso di responsabilità dei gitanti e ricordano di evitare di gettare mozziconi di sigarette, di accendere fuochi solo nelle aree consentite e mai in presenza di vento, di non dar fuoco tantomeno all'esterpaglia in campagna, attività che in ogni caso va autorizzata, ma anche di non parcheggiare sui prati, sia per il danno possibile al manto erboso, sia perché il motore può emettere scintille sull'erba secca. Inoltre, mai abbandonare rifiuti nei boschi, possono essere infiammabili e soprattutto avvisare subito il 115, anche se si avvista un piccolo focolaio. Le caratteristiche dell'Abruzzo, che presenta un patrimonio boschivo diffuso anche a ridosso della costa, ne fanno una delle regioni più esposte. Per questo, ricorda il WWF, gli incendi futuri non andranno spenti domani, ma prevenuti oggi.